Go! Ciao a tutti, buonasera, sono Antonio Mantelli, ho 23 anni e peso ciotolino, scherzo di più. Il drink Kimi Pong oggi si chiama Absolute CM, è un drink che può essere degustato come after dinner o pre-dinner ed è a base di Absolute Flower Peer's, Tripesec, Sweet and Sour armonizzato al finocchio e crusta di aceto balsamico. Questi ultimi due ingredienti permettono al drink anche di essere degustato a cena per chi vuole. Bene, cominciamo, se vuole DJ può anche attendere la musica, Antonio! Oh yeah! Oh! Oh yeah! Grazie. 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 Un minuto. Ragazzo. Siamo un po' in picca. Siamo un po' in picca. Siamo un po' in picca.